Che Dio ci aiuti 7, cambia tutto Spollon protagonista, nuovo cast e addi. Pier Paolo Spollon sarà il protagonista della nuova stagione. Finalmente l'attesa è finita le riprese di Che Dio ci aiuti 7 stanno per iniziare. Dopo diversi slittamenti, tempistiche modificate e rimandi tutto sembra essere finalmente pronto. Annunciato in anteprima da Bibinoblog il primo check avrà inizio lunedì 23 maggio, dunque la prossima settimana. Ma questa non è l'unica anteprima fornita. Infatti il cast della settima stagione della fortunata fiction di Rai 1 si appresta a subire grandi rivoluzioni che nulla hanno a che vedere con quelle circolate nelle ultime settimane. Quelle novità assolute Pier Paolo Spollon, lo psicologo Emiliano arrivato nella scorsa stagione, diventerà protagonista. In arrivo poi una nuova madre superiore alla cui identità dell'attrice al momento è top secret. Come riporta Bibinoblog, non dovrebbe essere un nome di punta ma si tratterebbe di un'attrice quarantenne sconosciuta al grande pubblico ma non sarà sfuggita ai più appassionati di fiction. Nuove rivoluzioni nei cast di Che Dio ci aiuti 7 Chi resta e chi va via Nonostante l'arrivo di una nuova madre superiore i fan di Che Dio ci aiuti possono stare tranquilli. Elena Sofìa Ricci ci sarà. Quello che accadrà nella settima stagione, a differenza di quanto accaduto in Don Matteo, viene definito un via vai. L'amatissima suor Angela dunque ci sarà ma avrà un ruolo più defilato e meno presente. La stessa cosa succederà a suor Costanza Valeria Fabrizi, che rimarrà ma sarà presente di meno rispetto alle precedenti stagioni. La grande confusione sul futuro di Elena Sofìa Ricci una certezza c'è la protagonista femminile assoluta sarà Francesca Chillemi con la sua azzurra. Moltissimi attori passati invece sono pronti all'addio. Si tratta di Nico Gianmarco Saurino, Monica Diana del Bufalo, Ginevra Simonetta Columbo ed Erasmo Erasmo Genzini. Pier Paolo Spollon ha tutta fiction per lui tre riconferme. Se nella scorsa stagione il ruolo di Emiliano era stato piuttosto marginale, per lo più utile nella breve storia con Monica, nella prossima stagione diventerà fondamentale. Per l'attore non ci sarà soltanto la riconferma di Che Dio Ci Aiuti 7 ma anche le nuove stagioni di altre serie amatissime di Rai 1 targate Lux Vaidi. Si tratta di Blanca 2 e di Doc Nelle Tue Mani 3. Mentre Francesca Chillemi sarà la protagonista anche della nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, sempre della Lux Vaidi, e Elena Sofia Ricci lo sarà del thriller Fiori Sopra l'Inferno. Per Paolo Spollon sarà il protagonista della nuova stagione. Finalmente l'attesa è finita. Le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 stanno per iniziare. Dopo diversi slittamenti, tempistiche modificate e rimandi tutto sembra essere finalmente pronto. Come annunciato in anteprima da Bibinoblog il primo check avrà inizio lunedì 23 maggio, dunque la prossima settimana. Questa non è l'unica anteprima fornita. Infatti il cast della settima stagione della fortunata fiction di Rai 1 si appresta a subire grandi rivoluzioni che nulla hanno a che vedere con quelle circolate nelle ultime settimane. Due le novità assolute Pier Paolo Spollon, lo psicologo Emiliano arrivato nella scorsa stagione, diventerà protagonista. Arrivò poi una nuova madre superiore alla cui identità dell'attrice al momento è top secret. Il portabubino blog, non dovrebbe essere un nome di punta ma si tratterebbe di un'attrice quarantenne sconosciuta al grande pubblico ma non sarà sfuggita ai più appassionati di fiction. Nuove rivoluzioni nel cast di Che Dio Ci Aiuti 7 Chi Resta e Chi Va Via Nonostante l'arrivo di una nuova madre superiore i fan di Che Dio Ci Aiuti possono stare tranquilli. Elena Sofìa Riccii ci sarà. Quello che accadrà nella settima stagione, a differenza di quanto accaduto in Don Matteo, viene definito un via vai. Santissima sua Rangela dunque ci sarà ma avrà un ruolo più defilato e meno presente. La stessa cosa succederà a suor Costanza Valeria Fabrizi, che rimarrà ma sarà presente di meno rispetto alle precedenti stagioni. Dopo la grande confusione sul futuro di Elena Sofìa Ricci una certezza c'è la protagonista femminile assoluta sarà Francesca Chillemi con la sua azzurra. Tantissimi attori passati invece sono pronti all'addio. Si tratta di Nico Gianmarco Saurino, Monica Diana del Bufalo, Ginevra Simonetta Columbo ed Erasmo Erasmo Genzini. Paolo Spollon ha tutta fiction per lui tre riconferme. Nella scorsa stagione il ruolo di Emiliano era stato piuttosto marginale, per lo più utile nella breve storia con Monica, nella prossima stagione diventerà fondamentale. Ma per l'attore non ci sarà soltanto la riconferma di che Dio ci aiuti sette ma anche le nuove stagioni di altre serie amatissime di Rai 1 targate Lux Vaidi. Tratta di Blanca 2 e di Doc Nelle Tue Mani 3. E mentre Francesca Chillemi sarà la protagonista anche della nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, sempre della Lux Vaidi, Elena Sofia Ricci lo sarà del thriller Fiori Sopra l'Inferno. Er Paolo Spollon sarà il protagonista della nuova stagione. Mentre l'attesa è finita le riprese di che Dio ci aiuti sette stanno per iniziare. Dopo diversi slittamenti, tempistiche modificate e rimandi tutto sembra essere finalmente pronto. Come annunciato in anteprima da Bibinoblog il primo check avrà inizio lunedì 23 maggio, dunque la prossima settimana. Il cast non è l'unica anteprima fornita. Infatti il cast della settima stagione della fortunata fiction di Rai 1 si appresta a subire grandi rivoluzioni che nulla hanno a che vedere con quelle circolate nelle ultime settimane. Due le novità assolute Pier Paolo Spollon, lo psicologo Emiliano arrivato nella scorsa stagione, diventerà protagonista. In arrivo poi una nuova madre superiore alla cui identità dell'attrice al momento è top secret. Come riporta Bubinoblog, non dovrebbe essere un nome di punta ma si tratterebbe di un'attrice quarantenne sconosciuta al grande pubblico ma non sarà sfuggita ai più appassionati di fiction. Nonostante l'arrivo di una nuova madre superiore ai fan di che Dio ci aiuti possono stare tranquilli. Una Sofia Ricci ci sarà. Quello che accadrà nella settima stagione, a differenza di quanto accaduto in Don Matteo, viene definito un via vai. Matissima Sor Angela dunque ci sarà ma avrà un ruolo più defilato e meno presente. La stessa cosa succederà a suor Costanza Valeria Fabrizi, che rimarrà ma sarà presente di meno rispetto alle precedenti stagioni. Dopo la grande confusione sul futuro di Elena Sofia Ricci una certezza c'è la protagonista femminile assoluta sarà Francesca Chillemi con la sua azzurra. Tantissimi attori passati invece sono pronti all'addio. Si tratta di Nico Gianmarco Saurino, Monica Diana del Bufalo, Ginevra Simonetta Columbo ed Erasmo Erasmo Genzini. Per Paolo Spollon ha tutta fiction per lui tre riconferme. Se nella scorsa stagione il ruolo di Emiliano era stato piuttosto marginale, per lo più utile nella breve storia con Monica, nella prossima stagione diventerà fondamentale. Ma per l'attore non ci sarà soltanto la riconferma di che Dio ci aiuti sette ma anche le nuove stagioni di altre serie amatissime di Rai 1 targate Lux Vaidi. Si tratta di Blanca 2 e di Doc Nelle Tue Mani 3. Francesca Chillemi sarà la protagonista anche della nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, sempre della Lux Vaidi, e Elena Sofia Ricci lo sarà del thriller Fiori Sopra l'Inferno.